Altro maxi sequestro in provincia di Agrigento di prodotti ittici privi della necessaria documentazione non idonea al consumo. Sono 7 le tonnellate sequestrate al termine di un'operazione denominata Safe Frozen. Sono pronti a fioccare centinaia di ricorsi contro le bollette IMU del 2013. Diversi professionisti le considerano decadute perché stanno giungendo oltre 5 anni previsti dalla prescrizione. Per il comune sono invece legittime. Randagismo, il sindaco Valenti affronta il problema con provvedimenti urgenti alla richiesta del consigliere comunale Teresa Bilello all'indomani dell'episodio in via Ghezzi che ha visto un ciclista aggredito da un randaggio. Il calo demografico, il vero grande problema della scuola Agrigentine, il calo delle iscrizioni potrebbe portare all'accorpamento di istituti in diverse città. Questo l'allarme lanciato al nostro Tg dal provveditore agli studi. IMU Agricola 2018, delusione a Ribera per il mancato intervento del governo, confido in un provvedimento di rimborso anche tardivo, altrimenti il sottosegretario Candiani è venuto qui per la solita passerella, dice pace. Calcio nella prima giornata del girone di ritorno di prima categoria, lo Sciac affronterà domenica prossima al Gurrere il Cinisi. Entrambe le squadre sono al primo posto, sarà una grande sfida, commenta il tecnico Vincenzo Piazza. Un cordiale benvenuto, ben trovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con le nostre notizie. Oggi la cronaca in apertura, 7 tonnellate di prodotti ittici sequestrati in provincia di Agrigento perché privi della necessaria documentazione e non idonei al consumo. È il risultato dell'operazione denominata Safe Frozen, effettuata dalla Capitaneria di Porto, e i cui dettagli sono stati resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Operazione che fa seguito alle 4 tonnellate di prodotti ittici che alla vigilia di Natale erano stati sequestrati a Sciacca. Ci racconta tutto in questo servizio Maria Genuardi. Un altro ingente quantitativo di prodotti ittici è stato sequestrato in provincia di Agrigento dal personale della Capitaneria di Porto, che da tempo ormai porta avanti i serrati controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle normative in materia di tracciabilità a tutela dei consumatori. È stato il comandante Gennaro Fusco questa mattina nel corso di una conferenza stampa ad illustrare i particolari dell'operazione denominata Safe Frozen che ha portato al sequestro di 7 tonnellate di prodotti ittici tra fresco e congelato nei confronti di una ditta all'ingrosso. Una imponente attività che ha visto il personale della Guardia Costiera di Porto in Pedocle impegnato per diversi giorni e in condizioni ambientali particolarmente critiche. I controlli sono avvenuti infatti all'interno di celle frigorifere la cui temperatura è di meno 20 gradi ed è stato necessario alternare il personale per evitare rischi alla salute. Al termine dei controlli è risultata evidente la mancata rintracciabilità di tutto il prodotto ittico che è stato sequestrato e successivamente sottoposto al controllo del personale in servizio presso il distretto veterinario di Agrigento che ha attestato la non idoneità al consumo umano della merce. Gli ispettori della Capitaneria di Porto hanno così proceduto al verbale di sequestro alla sanzione amministrativa da 750 a 4.500 euro nei confronti della ditta controllata. Il comandante Fusco ha elogiato questa mattina il lavoro svolto dai militari sottolineando come sia massima l'attenzione verso il rispetto delle procedure e delle normative che riguardano la filiera della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici. L'operazione di oggi fa seguito peraltro al sequestro di 4 tonnellate di prodotti ittici il cosiddetto mistomare in quel caso avvenuto a Sciacca alla vigilia di Natale e di altre 2 tonnellate a Porto Empedocle nell'ambito dell'iniziativa allora denominata Confine Illegale il cui obiettivo in prossimità delle feste e degli aumentati consumi di pesce era quello di verificare la corretta commercializzazione dei prodotti ittici. Ancora cronaca si sarebbero resi protagonisti di violenze soprusi nei confronti di un giovane e in un'altra occasione nei confronti di alcuni titolari avventori dei locali della movida di Racalmuto sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per altri 3 scattato il divieto di dimora i fatti risalgono allo scorso mese di settembre quando nel cuore della notte i 7 seminarono il panico tra le persone sedute ai tavoli dei locali iniziando a rovesciare addosso ai clienti quello che stavano consumando e a rivoltare tavoli e sede obbligando i titolari degli esercizi pubblici a chiudere anticipatamente dalle successive indagini dei carabinieri di Canicattì e Racalmuto è poi emerso che alcuni degli indagati avrebbero preso di mire in un altro grave episodio un giovane di 23 anni di Favara. L'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per 4 di questi giovani e ad altri 3 come si diceva è stata applicata la misura del divieto di dimora a Racalmuto. Il sindaco Valenti, massima autorità sanitaria in città, affronti il problema con provvedimenti urgenti all'indomani dell'incidente in Viaghezzi causato dall'aggressione di un cane ad un ciclista a Sacenze e il consigliere del Movimento 5 Stelle, Teresa Bilello, ad attaccare l'amministrazione per non avere affatto risolto la questione randagismo. La situazione rispetto allo scorso anno è addirittura peggiorata con la presenza nel territorio di circa 350 cani organizzati in branco. Sentiamo. Ad è stato clamore, come era prevedibile, la notizia dell'incidente di ieri mattina in Viaghezzi nel quale è rimasto coinvolto un ciclista a Sacenze che dopo essere stato attaccato da un cane è finito a terra, continuando a subire l'aggressione dell'animale. Episodio che ha fatto scattare l'ennesima denuncia nei confronti del comune di Sciacche e che ha riacceso i riflettori sull'emergenza randagismo. Problematica, afferma oggi il consigliere Teresa Bilello, che a distanza di quasi un anno dall'orribile strage di Muciare è ancora ferma al palo. Le uniche novità, scrive il consigliere Pentastellato, sono nuova aggressione ai cittadini, conseguenti denunce al comune e la presenza di oltre 350 cani organizzati in branchi in netto aumento rispetto all'anno scorso. Ed è all'amministrazione Valenti che viene adebitata la responsabilità di tutto ciò anche in relazione alla terapia d'urto con la quale il sindaco ha giustificato nei mesi scorsi l'azzeramento della soggiunta e che evidentemente per Teresa Bilello non ha affatto prodotto il risultato annunciato. Anche sul randagismo solo immobilismo e promesse alle quali non si riesce a dare seguito, prosegue infatti l'esponente del Movimento 5 Stelle che adebita all'amministrazione comunale anche la chiusura alle proposte che pure su questa problematica sono arrivate da cittadini, associazioni e forze politiche. Del randagismo, precisa il Movimento 5 Stelle, si è occupato a lungo fornendo all'amministrazione proposte concrete e fattive che come sempre sono rimaste chiuse nei cassetti. Eppure, aggiunge Teresa Bilello, il sindaco e la massima autorità sanitaria locale in tale veste può anche emanare ordinanze urgenti con efficacia estesa al territorio comunale in caso di emergenze sanitarie ed igiene pubblica e quella del randagismo è una emergenza sanitaria che investe anche l'importante aspetto della sicurezza dei cittadini. Come evidenziato dal Movimento 5 Stelle e confermato anche dal responsabile degli allevamenti dell'aspe di Agrigento, l'unica soluzione, aggiunge Teresa Bilello, per iniziare ad arginare il problema è quella di riattivare il ciclo di cattura, sterilizzazione e remissione sul territorio dei cani. L'auspicio del consigliere è che il sindaco Valenti passi all'azione evitando, come successo per altre problematiche, di cercare invece di addossare la responsabilità ad altri. Sono pronti a fioccare centinaia di ricorsi contro le bollette IMU del 2013. Diversi legali e commercialisti le considerano decadute perché stanno giungendo nelle case le famiglie interessate oltre i cinque anni previsti dalla prescrizione, ma dal Comune spiegano cartelle legittime. Il punto in questo servizio è di Massimo D'Antonio. Contribuenti sul piede di guerra sciacca per la notifica delle cartelle IMU risalenti al 2013, imposta che sarebbe già stata prescritta perché sta giungendo nelle case delle famiglie in questi giorni, ossia oltre i cinque anni stabiliti dalla prescrizione, teoricamente scaduti lo scorso 31 dicembre. Diversi studi legali e di commercialisti sono stati contattati allo scopo di rappresentare utenti pronti a promuovere ricorsi, come detto, contro tempi di notifica che vengono considerati illegittimi. Ma prima dell'ipotesi di un ricorso al momento riteniamo che il Comune debba annullare le bollette in autotutela. A parlare così al nostro telegiornale l'Avvocato Antonello Pallagonia, a giudizio del quale non di prescrizione bisogna parlare, bensì di decadenza. Il diritto del Comune di poter richiedere queste somme, aggiunge il legale, è venuto meno perché non è accettabile che la data di spedizione dell'Ufficio Postale sia ad esempio quella del 2 gennaio 2019. Esame per un'eventuale revoca in autotutela che, peraltro, dovrebbe essere fatto immediatamente. Il tempo per presentare eventuali ricorsi alla Commissione Tributaria è infatti di appena 60 giorni. Insomma, per l'Avvocato Pallagonia e per molti suoi colleghi, le bollette IMU del 2013 sono illegittime. Un tema su cui gli stessi consiglieri comunali di opposizione, Calogero Buono e Giuseppe Mirioti, che per la loro professione rispettivamente di dottore commercialista e di consulente del lavoro possiedono anche una specifica competenza, hanno chiesto nei giorni scorsi la convocazione urgente della Commissione Consiliare Bilancio e Finanze, di cui fanno parte. Vogliamo vedere tutti gli atti, hanno fatto sapere, osservando anche che queste cartelle esattoriali potrebbero essere oggetto di contenziosi infiniti, in virtù di norme e sentenze su prescrizione e decadenza, molto farraginose e confuse. Vicenda sulla quale però l'amministrazione comunale non solo non intende revocare le cartelle, ma che appare decisamente sicura delle proprie ragioni. Stando a quanto si apprende, il Sindaco Valenti, d'intesa col direttore dell'Ufficio Ragionerie e Finanze, Filippo Carlino, sta preparando una relazione che dimostrerebbe la validità delle bollette IMU del 2013. Relazione che potrebbe essere oggetto di specifiche comunicazioni in apertura della prossima seduta utile del Consiglio Comunale. Ad avere specifica validità ai fini della prescrizione sarebbe in particolare il giorno in cui il Comune ha consegnato le cartelle alla posta per la notifica. Cosa questa è avvenuta subito dopo Natale, comunque entro il 31 dicembre, evidentemente dentro i cinque anni e quindi prima della cessazione del periodo di decadenza. Ad essere dirimente dunque la data in cui l'Ufficio Finanze e Tributi ha licenziato le bollette. Quella successiva di notifica rientra in una fase che non è più di competenza dell'ente impositore, cosa su cui l'amministrazione si fa forte anche attraverso una specifica sentenza della stessa Corte Costituzionale. Di certo c'è che la questione merita ogni opportuno approfondimento nell'interesse reciproco sia quello dei cittadini sia quello del Comune. Visita del Presidente della Regione nello Musumeci oggi pomeriggio a Menfi. La presenza del Governatore nel Comune Bellicino si inquadra nel piano degli interventi di messa in sicurezza del territorio a seguito dei danni causati dai nubi fragili dello scorso novembre. Musumeci accompagnato dal Sindaco Marilena Mauceri effettuerà dapprima un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo e precisamente nella località Lido Fiori. Poi parteciperà ad una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Menfi che si svolgerà alle 18.30 al centro civico. È morto stanotte in un ospedale di Palermo dove era stato trasferito a seguito di un grave malore l'ex sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo. Aveva 66 anni, medico e politico di lunga esperienza. Pompeo è stato sindaco di Castelvetrano all'inizio degli anni 2000 per due mandati consecutivi. Fu anche assessore alla pubblica istruzione della ex provincia di Trapani. Nel 2017 aveva nuovamente annunciato la sua ricandidatura a sindaco di Castelvetrano, elezioni poi annullate per il commissariamento del Comune. Il calo demografico è il vero grande problema della scuola grigentina dove le iscrizioni sono in forte calo e questo potrebbe inevitabilmente portare all'accorpamento di istituti facendo venir meno tanti posti di lavoro. Questo l'allarme è lanciato oggi al nostro telegiornale da Raffaele Zarbo, direttore dell'ufficio scolastico provinciale, oggi a Sciacca nell'ambito di un'iniziativa che si è svolta al liceo classico. Sentiamo Francesca Ciaccio. Corso di formazione per dirigenti scolastici oggi a Sciacca ed abbiamo approfittato della presenza in città del provveditore agli studi di Agrigento Raffaele Zarbo per fare il punto della situazione sulle scuole provinciali. Il quadro emerso è allarmante. Sta per scadere il periodo delle iscrizioni e si teme che il numero degli studenti un po' in tutti i gradi scolastici sia inferiore e di molto rispetto a quello degli anni precedenti a causa di un consistente calo demografico. Di conseguenza potrebbero saltare sia classi, sia insegnanti, sia dirigenti. Come lascia intendere Zarbo a Sciacca e nei paesi limitrofi come a Ribera, il prossimo anno alcune scuole potrebbero essere accorpate. Ministro quest'anno ha anticipato la scadenza delle iscrizioni. Quindi noi a fine gennaio avremo l'idea, perché magari poi qualche giorno dopo, a febbraio, visto che è tutto online, tardi per la scuola di infanzia, ancora cartacea, la presentazione delle domande, di tutti i ragazzi che saranno la platea dei fruttori dell'offerta formativa della nostra provincia. Ahimè, da anni registriamo nel territorio siciliano, ma soprattutto in quello nostro argentino, un calo dell'escrizione e della frequenza per il calo anagrafico e il calo demografico. Questo comporta la difficoltà di autorizzare classi pur avendo i mezzi finanziari e di personale, perché ogni classe deve avere, così come dice la norma, quei docenti coerenti alle classi che appunto formiamo. Cosa accade? Accade che possibilmente avremo dei perdenti posti dei docenti, perdenti posti dei docenti di ruolo che poi vengono collocati in altri posti. È un fatto molto difficoltoso, ma è un problema sociale. Non ci sono più alunni e diciamo sempre fate figli, fate figlie, scusatemi la battuta, non abbiamo più alunni. Questo è un dramma. È per coloro che sono in servizio qui e per i tanti che da tanti anni aspettano un trasferimento dopo, ripeto, anni e anni di insegnamento fuori dalla nostra provincia con grandi difficoltà. Al di là delle questioni della 104, c'è un problema forte del calo anagrafico. Quindi la situazione non è buona, non è buona. Noi prevediamo, come dire, anche quest'anno un ulteriore. Anche in questo territorio di Sciacca, di Ribera, avremo grandi difficoltà a confermare l'organico dello scorso anno. Imo Agricola c'è delusione a Ribera per il mancato provvedimento del governo nazionale entro il 16 gennaio scorso, in assenza del quale gli agricoltori, che speravano in una essenzione del pagamento della rata di saldo del Limo Agricola 2018, saranno invece costretti a saldare l'imposta entro il 31 gennaio prossimo. Io spero in un intervento anche tardivo del governo, altrimenti la visita di Candiani a Ribera dopo i nubifragi è stata soltanto la solita ed ennesima passerella inconcludente di rappresentanti delle istituzioni nei territori devastati dalle calamità, dichiara il nostro Tg, il sindaco Carmelo Pace. Sentiamo. C'è delusione a Ribera nel mondo agricolo, ma anche tra le istituzioni cittadine, per il mancato intervento del governo nazionale entro la scadenza del 16 gennaio scorso e che vanifica la sospensione del pagamento della rata di saldo Imo Agricola 2018, che era stata invece approvata dall'amministrazione comunale con delibera di giunta dello scorso 26 novembre. E' il sindaco Carmelo Pace a manifestare oggi al nostro telegiornale tutta la sua amarezza per il mancato provvedimento del governo nazionale, nonostante il preciso impegno assunto nei confronti della comunità riberese dal sottosegretario Candiani durante la sua visita a Ribera dopo i nubifragi di novembre. Amministrazione comunale che ieri è stata costretta a fissare per il 31 gennaio, il termine entro il quale gli agricoltori dovranno dunque saldare l'imposta. Noi durante la visita di Candiani, per dare un senso alle visite delle istituzioni nei territori colpiti dai nubifragi e non le solite passerelle, abbiamo fatto la proposta di sospendere la rata di saldo IMU del 2018, lo voglio specificare, dell'esercizio finanziario 2018. Candiani ha preso l'impegno di fare in modo che il MEF entro il 16 gennaio facesse in modo di farci arrivare questo provvedimento, questo decreto. Purtroppo non è arrivata nessuna risposta nonostante diversi solleciti ufficiosi e ufficiali, il mancato introito di 287 mila Euro inciderebbe in un mancato pareggio di bilancio dell'esercizio finanziario 2018, motivo per cui, così come abbiamo annunciato dal primo momento sia a Candiani, sia al MEF, sia agli agricoltori pepebrei. Nel caso in cui nessun provvedimento fosse stato emanato dal Ministero, noi avremmo purtroppo ai noi riproposto il saldo IMU entro il 31 gennaio, ma voglio aggiungere e comunque fare un'apertura, qualora seppur tardivamente il MEF volesse fare un provvedimento dopo il 16 gennaio, voglio tranquillizzare i cittadini del Ribera che comunque stanno pagando, che loro pagheranno chiaramente il loro dovuto entro il 31 gennaio, ma qualora dovesse arrivare il provvedimento a febbraio, a marzo, ad aprile, quando il MEF si deciderà, i cittadini del Ribera non perderanno un Euro, coloro che hanno pagato vedranno rimborsato ciò che hanno pagato o compensato eventualmente con quello che dovranno pagare nel 2019. Quindi per noi diciamo nulla è perduto, non voglio dare un alibi al Ministero, dire il 16 gennaio era una data troppo risicata, troppo vicina, perché qualora dovesse arrivare questo provvedimento i riberesi non perderanno un Euro. Ci sono delle ragioni ben precise legate alla necessità di rispettare l'obiettivo del cosiddetto pareggio di bilancio, dunque se il Comune di Ribera aveva a suo tempo indicato la data del 16 gennaio come termine entro il quale il Governo avrebbe dovuto trasferire al Comune le somme, precisamente 287 mila Euro derivanti dal mancato introito della rata di saldo IMU. Confido in un intervento anche tardivo del Governo, altrimenti la visita di Candiani dello scorso novembre, altro non è stata che la solita ed ennesima inconcludente passerella di rappresentanti delle istituzioni, conclude il Sindaco di Ribera. Stiamo parlando dell'esercizio finanziario 2018, questo introito in realtà doveva arrivare entro il 2018, per una concessione del dirigente nostro ai servizi finanziari, seppur poi ha messo un parere contrario in delibera, si è pensato di andare magari entro il 31 gennaio 2019, ma oltre la legge non ce lo consente, quindi per questo motivo si è scelta la data e ricordo anche la battuta di Candiani quando noi abbiamo proposto il 16 gennaio, erano i primi di novembre, che ha detto ha voglia da qui al 16 gennaio. Ripeto, nessuna polemica, nessun rimprovero per carità, fa specie che per l'ennesima volta i vari governi si recono nei comuni colpiti dal nubifraggio, tante belle parole, ma poi alla fine si trasformano la solita passerella in campagna elettorale. Ospedale di Sciacca, il sindaco Francesca Valente ha chiesto un incontro al nuovo commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, Giorgio Giulio Santonocito, superata la fase dell'insediamento della conoscenza della realtà agrigentina, il sindaco di Sciacca ha chiesto un incontro al commissario per fare il punto della situazione dell'ospedale Giovanni Paolo II e del complesso dei servizi sanitari offerti dall'ASP in un vasto territorio che ha come punto di riferimento la città di Sciacca. Avviso per l'organizzazione del Carnevale di Sciacca 2019, l'amministrazione comunale oggi ricorda che scade il 22 gennaio prossimo alle 12 il termine ultimo per inoltrare le stanze per partecipare all'avviso pubblico per l'individuazione di ditte, associazioni cooperative e società a cui affidare l'organizzazione, la realizzazione, la gestione e la promozione dell'edizione 2019 del Carnevale. La novità riguarda la presentazione dell'istanza, le domande di partecipazione dovranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite indirizzo di posta elettronica certificata PEC. A distanza di oltre un anno dalle elezioni regionali si chiude ora la vicenda del ricorso presentato all'ex parlamentare Salvatore Cascio per contestare l'elezione dei due deputati del Movimento 5 Stelle, Mangiacavallo e Di Caro. Sentiamo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto il ricorso dell'ex parlamentare agrigentino Salvatore Cascio. La vicenda era relativa alle elezioni regionali del 2017 alle quali Cascio, deputato oscente, si era presentato in provincia di Agrigento nella lista PDR Sicilia Futura, amica ripresidente, non riuscendo però nel tentativo di tornare a Palazzo dei Normanni nonostante avesse superato 5.000 preferenze risultando primo di quella lista. Dopo la proclamazione degli eletti Salvatore Cascio aveva presentato ricorso sull'elezione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro, facendo riferimento alla legge Severino e in particolare alla mancata presentazione, assieme all'accettazione della candidatura, della dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni ossative alla stessa. Dichiarazione che i candidati del Movimento 5 Stelle alle regionali del 2017 in Sicilia non avevano presentato, facendo scattare tanti ricorsi nell'isola da parte di quanti nelle altre liste non erano riusciti a raggiungere l'obiettivo di approdare a Sala d'Ercole. Tra questi, appunto, Salvatore Cascio, che si era rivolto ad un legale, aveva fondato ricorso sulla base del presupposto che la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità era da considerarsi come omissione da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali avrebbero dovuto essere esclusi prima ancora della competizione elettorale e indipendentemente da una loro ipotetica posizione di incandidabilità. Insomma, era stato richiesto l'annullamento dell'atto di proclamazione dell'elezione al Parlamento siciliano dei deputati Mangiocavallo e Di Caro da parte dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Agrigento. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha liquidato la questione dichiarando infondato l'appello che Salvatore Cascio aveva proposto anche sulla base di altre sentenze già pronunciate a riguardo. I parlamentari 5 Stelle, peraltro, avevano integrato la documentazione consentendo di accertare di non trovarsi nelle condizioni ostative alla candidabilità. Nasce a Sciacca un altro comitato di quartiere. Si chiama Canzalamone d'Intorni e fa riferimento alla zona che comprende la via Dante Alighieri, il villaggio Pescatori e tutte le abitazioni e attività commerciali che insistono nei pressi del Canzalamone che condividono problematiche comuni. Comitato che, tra le tante necessità del quartiere, pone chiaramente in prima linea l'esigenza dei lavori per la messa in sicurezza del torrente Canzalamone e poi viabilità stradale, completamento della pavimentazione e riqualificazione di alcuni marciapiedi in diversi punti della zona e problemi di natura igienico-sanitaria. Come dicevamo, seminario di formazione stamattina rivolto ai dirigenti scolastici del territorio al liceo classico Tommaso Fazzello di Sciacca, un corso di aggiornamento sulle nuove norme a cui attenersi. Sempre più il ruolo dei dirigenti ha dichiarato ai nostri microfoni il provveditore agli studi agrigento Raffaele Zarbo, sta diventando quello del burocrate. Sentiamo. La tutela della pubblica amministrazione nell'azione professionale del dirigente scolastico. Seminario di formazione questa mattina al liceo classico Fazzello di Sciacca, a cui ha preso parte un nutrito numero di dirigenti della provincia di agrigento e non solo, come ci spiega il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Raffaele Zarbo. Intanto grazie all'Associazione Nazionale Presidi che ha voluto questo seminario sulle nuove attività a cura del dirigente scolastico che sono sempre via via mutate, sempre con grande anche difficoltà rispetto alla funzione originaria dei nostri direttori didattici, dei nostri presidi. Perché con l'evolversi della normativa dall'autonomia scolastica alle ultime leggi il ruolo di dirigente scolastico, ahimè io dico diversamente da prima, è un ruolo più da burocrate, più da avvocato, più da ingegnere, più da consulente a volte finanziario, più che da contrattista e contrattualista, è diventato, come dire, è diverso dalla funzione primaria di colui che si occupava soprattutto dei processi educativi. Voglio dire, l'Associazione Nazionale Presidi si cura di formare, non di aggiornare, di aggiornare queste figure importanti per la vita scolastica e sempre coerentemente alle normative che accadono. Io dico, ahimè, non è più il vecchio preside, oggi è una figura più da burocrate e a volte è distratto, ma nel senso buono del termine, dall'attività che secondo me è primaria nel mondo della scuola, quella di occuparsi dei processi educativi e dei percorsi pedagogici didattici dei nostri fruitori dell'offerta formativa, dei nostri alunni e dei nostri studenti. E però le norme, anche quelle ultime, hanno un po' modificato, loro dicono perfezionato, ma hanno reso più burocrate colui che invece dovrebbe essere il maestro. Non a caso il dirigente scolastico proviene dal mondo della scuola. E quindi c'è l'obbligo di un aggiornamento, ma soprattutto di una formazione per rispondere alle esigenze della scuola di oggi. Quanti sono i dirigenti scolastici che oggi stanno prendendo parte a seminario e chi li sta formando o aggiornando? Sì, intanto sono più dei dirigenti della nostra provincia argentina, c'è quasi mezza Sicilia occidentale, sono più di 150. E li sta formando l'Associazione Nazionale Presidi che ha coinvolto altamente specializzati degli esperti in materia finanziaria, in materia di contabilità dello Stato e quindi di contabilità generale e del nuovo regolamento sulla contabilità di appalti pubblici e così via. È un'opportunità, ripeto, ma è una figura sempre più sacrificata alla burocrazia rispetto che alla pedagogia, ahimè. Però hanno l'obbligo di esercitare questo ruolo così delicato. Sarà l'attore ed autore Sacenze Pippo Graffeo il protagonista questa sera del nuovo appuntamento dell'iniziativa denominata Diamo Voce ai Libri, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sciacca e dalla Biblioteca Aurelio Cassar, finalizzata a conoscere gli autori attraverso la lettura ad alta voce delle loro opere. Graffeo proporrà un suo personale viaggio per la Sicilia, denominato Sussurri della mia terra, attraverso l'interpretazione di opere letterarie, teatrali e poetiche di vari autori siciliani. L'appuntamento è stasera alle 18 e 30 all'interno della Sala Blasco del Palazzo Municipale. Adesso vediamo il libro che ci consiglia oggi la Mondadori. C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'alterena sul tetto di casa sua. Loro lo chiamano piccolo poeta e ormai questo è diventato il suo nome. Il piccolo poeta ha un segreto, nel suo negozio lui non aggiusta solo i cellulari. Ad alcuni clienti, quelli più tristi e ammaccati aggiusta anche la vita. Il piccolo poeta si accorge subito quando un cliente ha bisogno di essere salvato. Dopotutto sono centinaia di anni che dal suo palazzo scrive poesie aggiusta cuori. Lo capisce sbirciando dentro i loro cellulari che come scrigni custodiscono pensieri, desideri, insomma le emozioni più intime e nascoste. Sceglie tutte le persone che hanno bisogno di qualcosa ma non sanno precisamente cosa. Persone che possono fare delle sue poesie l'uso migliore. Usarle per vivere, amare, curarsi, innamorarsi, chiedere scusa. Eppure anche lui ha bisogno di essere salvato. L'ha capito grazie a tre storie, tre vite che ha aggiustato e che alla fine incredibilmente hanno aggiustato lui. Ha capito che deve partire per ritrovare la sua Anna senza la quale non può più vivere. Prima di iniziare il suo viaggio però ci lascia queste cento poesie che sono come una mappa o delle istruzioni per ricostruirsi affinché noi possiamo usarle per aggiustarci, per capirci, per uscire dal bozzolo e diventare farfalle e diventare la migliore versione di noi stessi. La giusta cuori di Francesco Sole, Edito Mondadori. Calcio, prima giornata del girone di ritorno in prima categoria, l'Unitas-Shakas-Fidel Cinisi. Entrambe le squadre sono al primo posto e si giocano la vittoria del campionato. Sarà una grande sfida, commenta i nostri microfoni, mister Vincenzo Piazza. Si attendono tanti tifosi, sia saccensi sia ospiti. Abbiamo ancora difficoltà ad allenarci bene all'alternativo ma ci auguriamo lo stesso di poter fare una bella partita. Sentiamo. Calcio c'è attesa per la sfida di alta classifica tra Unitas-Shakas-Fidel Cinisi, le due prime della classe. Potrebbe essere uno snodo fondamentale per chi ambisce a vincere il campionato di prima categoria girone A. Appuntamento domenica con calcio d'inizio alle ore 14.30. È il mister Vincenzo Piazza a presentare l'incontro ai nostri microfoni. Per quanto riguarda il big game match di domenica col Cini, devo essere sincero, c'è una bell'aria che si respira. Ben vengono queste partite, non vediamo l'ora di giocare domenica. Si prevede una massiccia presenza di tifosi, anche ospiti a quanto pare? Sì, gli ospiti sicuramente, ma per quanto ci riguarda il nostro pubblico, almeno possiamo dire il nostro pubblico, ci segue già da inizio campionato. Quindi siamo felicissimi di avere innanzitutto questo pubblico, abbiamo le famiglie allo stadio, siamo contenti. Noi vi parlo come squadra, come ragazzi, mettono sempre tutto in campo, visto che è considerato comunque di dare anche delle belle risposte a questo pubblico. Per quanto riguarda la partita di domenica, dal punto di vista agonistico, che partita si aspetta? Noi abbiamo, ripeto sempre, la fortuna di avere nella nostra squadra giocatori che con la palla, diciamo, la sanno giocare. Speriamo che il campo sia in ottime condizioni. No, ottime no, che si possa giocare, perché in ottime condizioni penso che non ci sia, però speriamo di giocarcela. Quale problematica è stata avente in questi giorni anche relativamente agli allenamenti? Quelli di inizio campionato, lo sanno tutti, forse qualcuno ancora non lo sa, ma comunque ci alleniamo sempre in maniera un pochettino, non dico saltuaria, ma quasi, non ci alleniamo bene, però cerchiamo sempre di essere attenti anche sotto il profilo sicuramente di allenamenti. Potremmo fare di più. Anche ieri abbiamo cominciato ad allenarci all'alternativo, le squadre giovanili giocheranno all'alternativo, quindi già è un passo avanti, il Gorriera respirerà un pochettino. Sperando di poterci allenare pure all'alternativo in maniera ottimale, che ancora non è possibile, però come dice il nostro Presidente, piano piano ce la facciamo. Rispetto alla partita di andata, come sono cambiate le due formazioni? No, noi non abbiamo cambiato nulla, anzi, io dico sempre, abbiamo due o tre infortunati al solito, ma la nostra rosa è competitiva. Per l'altra formazione non hanno cambiato nulla, forse hanno preso un attaccante, ma cambia poco. Io da inizio campionato, che dico sempre, la mia preoccupazione è la mia squadra, niente di più. Devo essere sincero che questi ragazzi per quello che stiamo facendo all'inizio campionato oggi, non dico che hanno fatto dei miracoli, che stanno facendo dei miracoli, ma ci siamo vicini, sono veramente in gamba, devo fare un plauso a questi ragazzi. Ho detto l'altro giorno a tutta la squadra, bentornati, bentornati perché è difficile andare ad allenarci con, o meglio, non poterci allenare in maniera ottimale e vedere i musi lunghi. Però devo essere sincero che questi ragazzi, devo dire, bentornati perché si allenano con continuità, hanno uno spirito di sacrificio che non è normale in queste categorie e sono felicissimo ad allenarli. L'atleta saccense Mauro Zinna domenica 20 gennaio sarà impegnato a Mantua per il torneo Open Cup di Beach Tennis. Zinna, tesserato per il sodelizio Tennis Club Shaka, parteciperà in coppia con Giovanni Macca del Circolo Tennis a Cate. Alla competizione prenderanno parte i migliori giocatori nazionali. Zinna e Macca sono gli unici due giocatori a rappresentare la Sicilia. Arti marziali, appuntamento a bel passo per il sodelizio Karate Judo Club di Shaka, domenica 20 gennaio in pedana per la qualificazione regionale al campionato di Karate Kata per tutte le classi agonistiche maschili e femminili. Il maestro Pippo Piazza e l'allenatore Michele Catanzaro porteranno in gara Francesca Fazio, Rosario Messina, Leonardo Orsini e Vito Errante. Era l'ultima notizia, siamo in chiusura, grazie per essere stati in nostra compagnia, torniamo puntuali come sempre nelle prossime edizioni. Arrivederci.